Villella, Barbin, Fedi sono entrati nell'ordine, lanciato lo sprint, pochi istanti al termine entrano sulla rettilineo anche gli seguitori, sempre Villella al comando, attenzione, esce Barbin, lanciato lo sprint e va a vincere il premio della liberazione 2012, Enrico Barbin, Fedi, Villella, terza affermazione stagionale per Barbin, quarto posto per Sbaragli